in cammino con gesù un ritiro quaresimale di 5 10 minuti per le persone in movimento a cura della commissione cultura e comunicazione parrocchia san paolo cagliari trova un posto o uno spazio che ti offra un po di tranquillità prenditi un momento per essere consapevole di essere la presenza amorevole e vivente di dio mio dio so che tu mi vuoi bene aiutami a trascorrere questi pochi momenti con te in riflessione orante concedimi di percepire tutto ciò che desideri suscitare nel mio cuore per aiutarmi a mantenermi ben saldo con i piedi per terra legge attentamente in preghiera la riflessione offerta per il giorno fino a quando una parola o un'idea emerge lentamente o attira la tua attenzione o Signore mio dio in temi rifugio salvami da chi mi perseguita e liberami Gesù so che il diavolo mi insegue cercando di invogliarmi a peccare so che posso trovare rifugio in te a volte dimentico con le emozioni del tuo spirito donami gentili promemoria della tua amorevole cura per me nel silenzio parla con Dio di tutto ciò che ha suscitato nel tuo cuore in te mi rifugio rimani in preghiera silenziosa per un po' e liberami mentre il tuo tempo di preghiera volge al termine so che il diavolo mi insegue cercando di invogliarmi a peccare so che posso trovare rifugio in te a volte dimentico con le emozioni del tuo spirito donami gentili promemoria della tua amorevole cura per me mentre svolgi le attività della tua giornata in questo modo puoi rimanere raccolto e concentrato anche in mezzo a tutte le tue attività grazie a tutti grazie a tutti